Ed eccoci qua, allora io mentre ho messo in pausa la telecamera mi sono ricordato che ero senza erbe quindi ho comprato due spray e ho potenziato il fucile di precisione perché mi sono reso conto che la sua potenza mi sarà molto utile durante il gioco, vabbè andiamo a sconfiggere BitTorrent con i suoi file che ci danneggeranno prende il fucile, ora vi spiego cosa farò, non è nulla di particolare, è una mia pratica personale allora, meglio saresti fuori, nasconditi, l'unica cosa sensata che ha detto Lion in tutto il gioco, l'unica idea buona vabbè, entriamo, che disordine che c'è qui dentro, non viene mai nessuno a pulire, che sporcaccioni che sarà stato il vento? oh ma, fatta mandare lì dietro, vabbè, forse sarà Superman un po' invecchiato, lo so, è ritornato da noi ha perso un occhio, infatti ce la diventa, vabbè chiudiamo per bene, ma che forse che c'ha questo vabbè, ma poi perché lo vuole prendere due volte per il collo io non ho capito ancora cioè, con quella volta lo poteva strozzare invece no, lo deve prendere due volte, vabbè, fatta l'uego vabbè, io questa parte la salto tanto allora in effetti è vero quello che ho detto, cioè l'aveva preso per il collo, con l'occasione strozzalo vabbè allora, questa è una tattica che uso io, mi metto sempre qui sopra giustamente non mi faccio prendere e gli sparo da qua io almeno faccio sempre così e mi riesco sempre bene no, 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 no no passato no no sai che sono qua no scaricati subito no ma va però è un po' lento il problema è questo almeno lo devi fare un po' di volte ma come non mi prende non mi prendi non mi prendi non mi prendi non mi prendi ok ok qua si usa la doppietta è l'arma più potente perchè quel fucile preciso è troppo lento quindi non consiglio personale non c'è bisogno che velo io non lo so qua userei un bel flash ok 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 muori 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 non fado da andare col cavolo che mi prendi ma meno male questo è un attacco potentissimo che non possiamo evitare la cosa buona l'unica cosa buona che c'ha questo personaggio vecchie vabbè dai 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 subito l'erba assolutamente e poco e muori muori capiamo no come misteri mi tocca usare lo spray è forte, è uno dei boss più forti secondo me non vuole morire ma quando muore che palla usiamo la pistola non ormai credo che il piatti il foglio poco capa non guada guada per te finalmente no finalmente amore a ombro un gatto quando paura come un gatto no prendiamo gli oggetti finalmente mamma mia i proiettili 30.000 il posto per l'occhietto che il tipo giustamente prende il coso e si apre la porta vabbò è fatto di vetro non lo so non lo dice dove sta andando allora prendiamo subito gli oggetti che qua ce n'è sempre un bel po' la rossa bomba a mano ho battuto BitTorrent vabbè noi andiamo direttamente fuori tanto per non perdere tempo abbiamo preso tutti gli oggetti quindi usciamo fuori che spettacolare è uno stamp si tutto ok se non ci fossi tutto andrebbe ancora molto più ok abbiamo battuto BitTorrent si e vai sono un grande anche se i suoi pizzeri mi stanno prendendo in testa vabbè grazie 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 grazie